Il ruolo dobbiamo consolidare è quello che abbiamo fatto in questi cinque anni. Un rapporto ottimo, corretto, franco, libero, autonomo. Ho sempre apprezzato di confesercenti in richiamo alla legalità, che non è una cosa scontata per un'impresa, per un commerciante e per un'azienda. Ho apprezzato il modo di costruire un rapporto serio, corretto e trasparente tra pubblico e privato, contro gli oligopoli ma per la libera concorrenza, per una comunità economica più orizzontale e meno verticale. Ecco, questa vuole essere Napoli. E noi come amministrazione dobbiamo fare ancora di più per mettere in condizioni chi vuole investire di farlo senza troppi appesantimenti amministrativi e burocratici, senza troppi ostacoli. Quindi una città in cui conviene investire in termini cittadini, in termini di legalità, in termini amministrativi. C'è ancora tanto lavoro da fare ma con questa sinergia, con questo rispetto e con questa voglia di riscatto che c'è a Napoli io penso che possiamo fare grandissimi passi.